Primo gol ufficiale a Romeo Neri e anche il primo gol ufficiale, che è un po' più importante. Sì, molto contento per il gol personalmente, ma soprattutto contento per la vittoria della squadra. Ce l'ho raccontata? Palla ad Alex, che di sinistro mi ha messo una gran palla e ho provato a colpire la di piatto più forte possibile, l'ho schiacciato e per fortuna mi ha detto bene che è andata fin di palo dall'altra parte. Poi hai sfilato la maglietta, cosa ce l'ha scritto sull'altra? Era una dedica per un mio amico che ha avuto un incidente con la moto e che adesso sta facendo riabilitazione per riprendere a camminare. E' dedicato a lui il gol comunque. Un tuo giudizio sulla prestazione tua nella squadra? Io ho cercato di mettere tutto in campo, come tutti i ragazzi, e se mettiamo tutti tutto e giochiamo partita per partita potremmo strappare più punti possibile e poi noi ci prendiamo quello che viene giocando, come ho detto, partita per partita. Qual è stato il segreto di Sicilia? Il segreto è che ognuno ha messo tutto quello che aveva in campo e ognuno ha aiutato il compagno e se facciamo così ci sono buone possibilità di fare più punti possibili ogni partita. Ma non è stato il tuo attore? Non è stato il tuo attore, non è stato il passaggio per due mesi, se non è stato il passaggio per un'altra parte, ma non è stato il passaggio per il punto che può esistere perché portano per le cose? No, noi abbiamo, vabbè sì, abbiamo giocato due partite di Coppa Italia, poi per il resto abbiamo fatto tutti amichevoli, non vedevamo l'ora di iniziare il campionato, pensavamo mercoledì iniziasse, poi è stato rimpiato fino a stasera e finalmente ne è falsa la pena aspettare perché comunque la prima partita abbiamo vinto. Quanto è stata grande l'emozione di un gol per il tuo pubblico? È stata una bella emozione soprattutto perché io non giocavo da un po' e tornare a giocare la prima partita e tornare a segnare subito la prima partita è stato stupendo. In realtà anche alla prima avevo occasione di un pallone che ti è arrivato perché non era semplice di mettere il difensore della Trescina? No, come ho detto prima è stato più merito del bomber, cioè di Alex a darmi quella palla che era più difficile la palla che il gol diciamo. Mercoledì Vicenza? Sì, a noi mercoledì andiamo a Vicenza e come ho detto tutti diamo tutto e vediamo e ci prendiamo quello che viene, l'importante è che tutti mettiamo il massimo impegno in ogni partita, giochiamo per me e l'importante è giocare partita per partita senza pensare a niente, a cosa si può fare e prendere più punti possibili ogni partita.